allora vediamo come avviare il tuo fondo di investimento privato per distillare profitti ogni anno quando spiego questo argomento premetto sempre che non sto invitando nessuno a creare una società finanziaria quello che dico è che è possibile acquisire un'esperienza tale da gestire i propri capitali come un fondo di investimento soltanto che in questo caso si tratta di un fondo di investimento privato che è costituito semplicemente dai propri conti di trading e dalla propria esperienza quindi dagli asset finanziari che ci siamo impegnati a costruire nel corso degli anni gli asset finanziari sono la linfa vitale del nostro fondo personale e per costruirli abbiamo bisogno di tempo abbiamo bisogno di lavoro e di tempo quindi chi è disposto a impegnarsi in questo senso ha la possibilità di costruire qualcosa di molto concreto è chiaro però che per costruire in questa direzione è necessario tempo è necessaria passione per questa attività e non tutti sono interessati a spendere i propri anni spendere anni le proprie attività del proprio tempo in questa attività quindi chi è disposto invece a farlo chiaramente poi dopo potrà trattarne tutti i frutti e tutti i vantaggi che ne conseguono comunque per epilogare quello che abbiamo trattato nel corso degli ultimi articoli e video che ho pubblicato nel blog vediamo un attimo da dove partiamo per arrivare poi a quale obiettivo partiamo allo studio del mercato prima ci impegniamo a conoscere il mercato per trovare delle ricorrenze che sono presenti e che possiamo sfruttare per creare i nostri piani di trading ok dopodiché proseguiamo questo lavoro fino a creare i nostri metodi dopo aver creato i nostri metodi creiamo i nostri piani di trading metto qualche etichetta o almeno questo è l'approccio lavorativo che io utilizzo che condivido nei miei progetti quindi studio del mercato metodi strategie di trading o piani di trading si tratta della stessa cosa dopo aver creato le strategie di trading o i piani di trading come vogliamo chiamarli ci impegniamo a ottimizzare queste gestioni chiaramente possiamo creare più strategie più metodi per impegnarci poi alla messa in opera in modo da poter preparare nel corso degli anni più asset che poi devono essere portati a maturazione quindi creiamo le strategie e ci impegniamo a ottimizzare le gestioni quando dico le gestioni mi riferisco all'applicazione di un piano di trading su 4-5 coppie 3-4 coppie poi dipende dal piano e cosa deve fare abbiamo a disposizione quindi ci impegniamo a lavorare per creare più piani di trading più strategie ci impegniamo poi a ottimizzare questa gestione per creare un asset a basso rischio quindi dopo un'ottimizzazione che dura insomma qualche anno otteniamo un asset a basso rischio una volta che abbiamo creato più asset a basso rischio abbiamo a disposizione un asset diversificato ok e questo lavoro quindi si porta portato avanti nel corso degli anni ho spiegato più nello specifico nell'articolo che ho pubblicato nel blog e ho fornito ulteriori collegamenti come di solito faccio per darvi la possibilità di approfondire ogni tema c'è anche un articolo dove spiego nello specifico gli asset a basso rischio e gli asset diversificati questo è il lavoro in sintesi che si svolge per giungere a quello che è il risultato una volta che abbiamo costruito i nostri asset abbiamo il nostro fondo di investimento privato che produce di anno in anno quei risultati che a noi interessano con il giusto sforzo senza fare grandi cose senza rischiare assolutamente nulla di importante perché il rischio è una leva e noi impariamo a utilizzare quella leva a nostro favore dopo aver acquisito tutta questa esperienza è possibile creare i progetti di trading che si tratta di un asset ancora più specifico di un asset ancora più specifico che ci consente di sfruttare un po' di più la leva del rischio per moltiplicare quelli che sono i risultati bene tutto questo si può fare c'è bisogno di lavoro se ci dedichiamo a mettere in opera questo lavoro chiaramente poi dopo se ne traggono i profitti questa è la strada che io mi sono costruito nel corso degli anni per creare il mio tra virgolette fondo personale all'interno del quale io ho i miei asset i miei conti il mio capitale e questo mi consente di generare poi di anno in anno quei risultati che a me interessano sono compatibili con lo studio e con il lavoro che ho svolto e si porta poi avanti senza un rischio particolare senza problematiche particolari perché una volta che abbiamo imparato ad applicare tutto questo lo applichiamo senza un forte impegno una cosa ormai automatica ecco questo che voglio dire solitamente quando gli asset sono stati ottimizzati producono un risultato che viene calcolato all'interno di una forbice e quel tipo di risultato poi diventa abituale si presenta di anno in anno chiaramente capita l'anno in cui il profitto è maggiore l'anno in cui il profitto è minore ma lavorano sempre all'interno di un range che ormai conosciamo bene che ci costa poco mettere in opera ok? bene, leggi l'articolo ho spiegato anche altre cose in modo che possa essere chiaro il concetto e il primo modo poi di approfondirlo ulteriormente nel blog nel corso delle prossime settimane ciao a tutti e buon lavoro